Salve, stiamo entrando in sala operatoria per eseguire un intervento di addominoplastica. L'intervento di addominoplastica, detto anche lifting addominale, è uno di quegli interventi richiesti sia da pazienti donne che da pazienti uomini, infatti ne eseguiamo molti anche presso il nostro centro CEM di chirurgia estetica maschile. Questo intervento si esegue quando l'addome perde il suo tono, sia il suo tono cutaneo, quindi si va a fare un lifting cutaneo, oppure quando si perde quello che è il tono muscolare, quindi si formano delle alterazioni della muscolatura, quella che viene chiamata diastasi dei muscoli retti, cioè un allontanamento dei muscoli e quindi richiede quella che è una sintesi, quindi una riunione dei muscoli retti per ridare anche una compattezza muscolare all'addome. L'intervento può essere eseguito sia in regimi dei hospital, per quelli che sono considerati dei mini lifting, quindi meno estesi, oppure con ricovero di una o due notti per quelli che sono gli interventi più estesi che comprendono anche la parte muscolare. Dopo circa una settimana, dieci giorni si può rientrare al lavoro, mentre invece per l'attività sportiva più intensa si parla di uno o due mesi. L'intervento ridona un addome piatto e tonico a chi in seguito ha, per esempio, forti dimagrimenti o nelle donne dopo gravidanze, per chi appunto nell'addome si è persa questa tensione cutanea e muscolare. Grazie. 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 Grazie.